Io ho l'impressione che in questo Milan, dalla partita, dalla sconfitta contro l'Udinese alla vittoria ieri contro il PSG, sia cambiato qualcosa. Ma soprattutto qui ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, un commento e ad iscrivervi a questo canale se volete sempre più nuovi contenuti riguardanti il mondo del calcio. Oggi ho deciso di fare un approfondimento, un ulteriore approfondimento su questo Milan perché mi è piaciuto, perché ho trovato ieri la squadra di Pioli completamente cambiata. Loro hanno avuto qui lo switch che secondo me serviva perché il Milan delle ultime partite, le ultime prestazioni dei rossoneri non mi hanno convinto, non mi sono piaciute. E seppur la squadra comunque creava, perché io sono meno disfattista, ovviamente ho sentito tanti tifosi rossoneri e sono meno disfattista di loro. Ovviamente loro sono tifosi e hanno tutto il diritto di pensare a ciò. Si parlava e si continua a parlare, forse dopo la vittoria di ieri contro il PSG in casa un po' meno, ma si continua a parlare, si continuava a parlare fino a qualche ora fa di un Pioli out. Manovra che secondo me non è assolutamente contemplata, uno dalla società e due pensabile perché ragazzi parliamoci chiaro, chi si va a prendere? Cioè togli i Pioli, togli un allenatore che conosce la squadra, che ha già in mente come gioca il suo Milan già da anni, i giocatori lo conoscono. Quindi sono manovre che a mio parere non si possono fare, soprattutto a campionato in corso e in una fase, quanto meno iniziale, siamo solamente a novembre, quindi nulla è ancora perso e nulla è ancora deciso. Ho notato quindi il Milan più consapevole dei suoi mezzi, c'è stato uno switch mentale come ho già detto e ho notato un Milan con un approccio totalmente diverso. Ieri le due squadre, seppur affrontandosi, secondo me a darmi pari, io ho un parere sul PSG che secondo me pecca lì in avanti perché non ha un centrale di peso a centrocampo perché secondo me lì in mezzo non ha qualità. È in difesa dove Skriniar e Marquinhos, a mio parere, hanno più di qualche problema. Skriniar non è quello dell'Inter e Marquinhos ultimamente, insomma, non garantisce sicurezza. Quindi secondo me ieri si sono affrontate due squadre ad armi pari, ma è uscita la qualità del Milan, la qualità del Milan a centrocampo, mi è piaciuto Reinders, seppur questo è un difetto della squadra di Pioli che concretizza poco, cioè tanti tiri o comunque tante occasioni ma si concretizza poco. Ieri c'è stata l'occasione di Reinders sparata in alto, c'è stato Musa che non ha, diciamo, accentrato il portiere, insomma, ci sono state delle occasioni che secondo me si potevano e si dovevano concretizzare, ma il Milan ieri c'era, c'era con la mentalità, c'era dal punto di vista atletico, è stato aggressivo, c'è stato un Milan che ha giocato bene su tutti i fronti. Insomma, c'è un Milan che mi è piaciuto tantissimo e per quello secondo me, ed è una cosa che ho continuato a dire, che ho sempre detto, cercare un'alternativa a Pioli è sbagliato, perché il Milan in questo momento ha la necessità solamente di ritrovarsi, di capire che è una squadra forte, perché secondo me il Milan è una squadra forte, che ci sono tanti giocatori nuovi, lo stesso Reinders, Loftus-Cic, Musa e insomma tanti tanti altri che devono inserirsi, Okafor, Ciuquese che al momento è un elemento quasi estraneo, forse più di Okafor all'interno della squadra, insomma, c'è un team che deve compattarsi e che deve ricominciare a giocare, deve ricominciare a giocare come sa. Io, il Milan di quest'anno mi ricorda tanto la mia Inter dell'anno scorso, dove si arrivò più o meno a questo periodo, dove Inzaghi era considerato l'unico responsabile di tutto ciò, ma alla fine ragazzi, tanta sfortuna, ma la squadra è mancata nella mentalità, era in una condizione fisica anche particolare, ripeto, ultimamente anche gli infortuni non sono stati dalla parte di Pioli, che ha dovuto affrontare anche la partita, anche diverse partite in passato, con una squadra estremamente rimaneggiata, con tanti giocatori nei punti chiave dei tre reparti mancanti. Secondo me manca anche al Milan una punta centrale perché Giroud non potrà sempre fare gli straordinari, seppur ragazzi a 37 anni continua ad essere decisivo, e soprattutto è mancato il talento di Leao che ieri ha messo totalmente in ombra, mio parere personale, ha messo totalmente in ombra Bappé, che seppur affolate, perché il PSG ha alcune individualità, Bappé su di tutti, ma ha alcuni giocatori che a me piacciono tantissimo, come squadra ci sta, mi piace, però ieri secondo me il Milan ha affrontato il PSG ad armi pari, e ripeto, la qualità del Milan ieri è uscita fuori. Quindi, insomma, cari amici milanisti, io non sarei così preoccupato per non prendere in assoluto considerazione un eventuale cambio in panchina, e tra l'altro si è riaperto tutto in Champions League perché ora la classifica si è accorciata, le squadre sono tutte lì, quindi, insomma, si è riaperto tutto e il Milan deve e può puntare al passaggio del turno. Voi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video.